Durante la guerra italo-turca, che ebbe luogo tra il 29 settembre 1911 e il 18 ottobre 1912, le ferrovie dello Stato italiano svolsero un ruolo a dir poco fondamentale nella mobilitazione delle truppe del corpo di spedizione e nell'approvvigionamento di tutti i materiali necessari per sostenere lo sforzo bellico. Le ferrovie furono utilizzate estensivamente per trasportare truppe, munizioni, armi e altri materiali necessari alle operazioni belliche, garantendo un rapido e sicuro trasporto verso i centri di mobilitazione e di luoghi di imbarco. La prima fase della mobilitazione prevedeva di dirigere il traffico ferroviario verso i porti di Genova, Brindisi e Napoli. Quest'ultimo, scelto come base principale d'operazione, assorbì la maggior parte del traffico, sia navale che ferroviario. Il movimento che ne derivò fu veramente ingente. L'amministrazione dello ferrovie dello Stato italiano redasse una relazione concernente l'anno 1911-1912 ed i dati sono a dir poco sorprendenti. I trasporti effettuati su tutta la rete ferroviaria nazionale per la guerra di Libia ascesero ad una forza complessiva di 2940 ufficiali, 184.290 uomini di truppa, 10.650 quadrupeti e 585 carri. Si effettuarono inoltre agenti di trasporti di munizioni ed esplosivi, materiali di artiglieria e materiale aeronautico. La parte principale di essi ricorse nei mesi di ottobre e novembre 1911, quando si seguivano contemporaneamente i trasporti per il congetamento della classe 1889 dei corpi d'armata di Napoli e di Palermo. E quelli, per la chiamata alle armi della classe 1891, solamente in questi due mesi si ebbe un totale complessivo di oltre 250.000 uomini trasportati in ferrovia. Inoltre, se si considerano gli ingenti spostamenti di uomini in materiale bellico per le grandi manovre svolte nel Monferrato tra il 23 e il 29 agosto, in totale vennero trasportati su rotaia 9.500 ufficiali, 553.000 uomini, 45.000 quadrupeti e 3.700 carriaggi. Una percentuale del trasporto ferroviario precedentemente citato fu assorbito dal trasferimento di materiale bellico e personale destinato a colmare i vuoti prodotti dalla spedizione nelle varie guarnigioni. Le fonti dell'epoca riportano che, nonostante la frenetica circolazione di treni che caratterizzò quei mesi, non si registrano nessun disagio sia per quanto riguarda il regolare svolgimento del servizio pubblico sia la sicurezza ferroviaria. Bisogna sottolineare il fatto che la mobilitazione messa in atto per la spedizione in Libia fu considerata, in vista di un conflitto europeo, come un banco di prova dalle autorità e dai vertici militari italiani. Nonostante i numeri decisamente ridotti, la conquista della quarta sponda permise di valutare l'efficienza ed eventuali carenze del sistema ferroviario nazionale, in vista di future eventualità belliche, dimostrando l'importanza strategica del trasporto su rotaia. Le ferrovie dello Stato risposero prontamente all'esigenza della mobilitazione, richiamando tutto il personale in congedo ed operando con la massima diligenza e professionalità. Sia sui spostamenti programmi della prima mobilitazione che su quelli improvvisi della seconda, il servizio ferroviario fu eseguito regolarmente e con una buona celerità. Il comando del Corpo di Stato Maggiore lo dò al servizio reso dei ferroviari con le seguenti parole. Per l'efficace e valida cooperazione, onde l'esercizio stradale delle ferrovie dello Stato ha saputo corrispondere alle molteplici di importanti esigenze militari. Ma gli sforzi non si concentrarono solamente in patria. Una volta messo piede in Tripolitana ed in Cirenaica, si pensò bene di realizzare delle ferrovie a scartamento ridotto per agevolare il trasporto di materiale e soldati. Furono realizzate, con la collaborazione del personale del reggimento ferroviari, un buon numero di ferrovie del tipo Deokabil, per un totale di 60 km, a seguito di una richiesta urgente pervenuta alle ferrovie dello Stato da parte del governo. Furono quindi preparati per l'occasione un buon numero di materiali e di personale destinato ad imbarcarsi per la quarta sponda. L'8 gennaio partì da Venezia il primo piroscopo che attraccò a Tripoli il 14. Per l'occasione furono acquistati notevoli quantità di materiale Deokabil, la cui installazione fu rapida ed il cui utilizzo fu assai utile. La loro natura modulare li rese di facile impiego ed adattabili ad ogni contesto operativo. Derna, Bengasi ed infine Tripoli ebbero le loro prime linee ferroviarie. Ovviamente si trattava di soluzioni temporanee, infatti la loro scarsa capacità di carico e la mediocre velocità data dalla natura costruttiva della linea Deokabil rese necessario l'utilizzo di una ben più solida ferrovia a scartamento ridotto, quest'ultimo ben maggiore rispetto a quelle realizzate finora in Libia, almeno per quanto riguarda Tripoli e dei relativi impianti. La Deokabil nel capoluogo della Tripolitania fu rilevata sussidiaria per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione della ferrovia. La costruzione dei relativi impianti, delle linee e delle dilemazioni fu eseguita in tempi assai ristretti. Il 18 marzo fu inaugurato il primo tronco ferroviario di 12 km che dal porto di Tripoli giungeva alle località di Ainzara. Successivamente furono costruite complessivamente circa 60 km di state ferrate. Le autorità italiane disponevano inoltre del seguente materiale rotabile. Quattro locomotive, una vettura di prima e terza classe, due carri blindati, 12 carri serbatoio, 12 carri di armamento e 62 carri di diversa tipologia. Col progredire della penetrazione italiana nel territorio libico progredì anche la rete ferroviaria. Esse furono utilizzate estensivamente e in più occasioni per rifornire le parti del reggio esercito e per evacuare i feriti di malati dalle zone di combattimento, come avvenne l'8 giugno 1912 durante la battaglia di Zanzurro. Quel giorno fu allestito un treno straordinario composto da 10 veicoli più locomotore, gestito da personale misto proveniente sia dalle ferrovie dello stato che da reggio esercito. Il treno partì da Tripoli e si fermò a Gargaresh. Si trattava per lo più di carri e carrozze allestite alla meglio per poter ospitare i feriti provenienti dal campo di battaglia. Con materiale proprio erano stati eredati con materassi, guanciali, biancheria e quanto era necessario per i primi soccorsi ai feriti più gravi. Ciò permise la loro rapida evacuazione verso Tripoli, dove ad attenderli vi erano i chirurghi e l'ospedale. Inoltre numerosi convogli rifornirono costantemente le truppe prima, durante e dopo la battaglia. Tuttavia le ferrovie libiche costruite finora risultavano essere in realtà una goccia in un immenso oceano. La vastità del territorio libico, la difficoltà nel reperire localmente nei materie prime adibite alla costruzione delle linee ferroviarie, quale per esempio il legno e la massicciata, e la malferma e parziale occupazione del territorio, specialmente quello costiero, dove si dovevano concentrare gli sforzi, rallentò non poco il prolungamento delle linee costruite finora. Lo sforzo e la dedizione del personale ferroviario fu riconosciuto sia dai vertici militari che dalle istituzioni civili. Il presidente del Consiglio di Ministri, Giovanni Giuditti, espresse le proprie lodi al personale con un comunicato datato 6 aprile 1912. Mi è stato segnalato dai ministri della guerra e dei lavori pubblici ed io stesso ho avuto campo di constatare il perfetto funzionamento delle ferrovie di stato durante gli eccezionali movimenti di truppe occorsi nel periodo della guerra italo-turca ed in occasione anche dell'impianto e dell'esercizio dei tronchi ferroviari di Tripoli. Tale urgente e delicato lavoro ha potuto compiersi con prontezza e precisione per la sapiente direzione dei capi e per la benegazione e l'operosità del personale ed è argomento di grande legittimo compiacimento. Allo sforzo dell'esercito e dell'armata è venuto così a congiungersi l'azione delle ferrovie dello Stato che è spesso non vetuta ma non per questo meno efficace ed incomiabile ha permesso che in un'amirabile concordia di intenti si raggiungesse quel fine al quale erano rivolte le ispirazioni dell'intera nazione. Sono pertanto ben lieto di poter manifestare a lei l'espressione del più vivo compiacimento del governo per l'opera compiuta delle ferrovie dello Stato durante il lungo e difficile periodo della guerra e la prego di voler tributare una parola di encomio a tutti i funzionari e agli agenti di ogni grado che con tanto zero e intelligente operosità cooperarono al felice compimento degli importanti servizi ad essi affidati.